Il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha consegnato al Quirinale gli attestati d'onore di Alfiere della Repubblica conferiti nell'anno 2022 a ragazze e ragazzi che rappresentano modelli positivi di cittadinanza e che sono esempi dei molti giovani meritevoli presenti nel nostro Paese. Tra i premiati è anche Mario Amatuzio, 17 anni di Boiano, per l'azione di volontariato svolta in particolar modo in favore di persone anziane durante la fase più acuta della pandemia e per l'impegno con cui a scuola contribuisce all'inclusione e al contrasto del bullismo. A Mario e agli altri ragazzi le parole di apprezzamento del Capo dello Stato. E' per me un vero piacere accogliervi per consegnarvi gli attestati che sottolinano le azioni, le iniziative che avete realizzato e che avete posto in essere senza pensare di ricevere un premio. Tanto che alcuni di voi sono meravigliati quando sono stati avvertiti di questa occasione, di questo riconoscimento. Questo accresce il valore delle azioni che avete compiuto e di cui vi ringraziamo, vi ringrazio io personalmente e vi ringraziamo tutti come comunità nazionale. Sarà invece consegnata il 24 marzo, sempre dal Capo dello Stato, nel corso di un'altra cerimonia, l'onorificenza di ufficiale dell'Ordine al Merito della Repubblica Italiana alla molisana Maria Mastro Iacovo, 54 anni di Trivento. L'importante riconoscimento le è stato conferito per il suo impegno a favore dell'inclusione sociale, attraverso una corretta informazione alle famiglie con persone disabili e l'inserimento scolastico e professionale di questi ultimi. Grazie a tutti.